La gente si aspetta fino alla fine che la squadra faccia qualcosa di più, vuole andare ai playoff come lo vuole la squadra, come lo vuole la società, le ultime partite non sono andate bene perciò c'è un po' di malumore, è apprezzabile. Una cosa che posso dire alla gente è che questa squadra comunque fino alla fine, su questo non deve metterlo mai in dubbio, cercherà di fare il massimo con i propri limiti ma sotto il profilo dell'impegno è una squadra che ha dimostrato sempre e dimostrerà fino all'ultimo giorno che c'è e che ce la mette tutta. Poi le partite si devono vincere, è normale, se si perde la gente è scontenta e può manifestare un po' così, ma lo striscione non è stato duro, è stato offensivo, è stato un richiamo all'attenzione che la gente ha voluto andare alla squadra. I tifosi devono sapere che la squadra, la risposta allo striscione è questa, che la squadra darà il massimo, sempre ripeto, con i propri limiti a finire una stagione e renderla importante. Quando finirà tutto, se ci avremmo fatta ci prenderemo gli applausi e se non ci avrà fatta la squadra, primo io, ci prenderemo i fischi. Questo è il calcio, questo è lo sport. Abbiamo perso qualche per me, abbiamo perso qualche giocatore, abbiamo chiesto molto a alcuni giocatori e credo che nel momento che l'allenatore e lo staff devono aiutare i giocatori, se la squadra è un po' in difficoltà a fare qualcosa, l'allenatore deve mettersi in discussione, deve pensare a modificare qualcosa per aiutare i giocatori a rendere al massimo e a cercare di portare a casa qualche partita in più. Abbiamo visto, provato a capire, analizzato tutte le situazioni che potremmo analizzare per capire queste partite che sono tutte simili, perciò c'è un motivo, c'è qualcosa. Nonostante l'abbiamo fatta pure abbastanza bene, abbiamo visto anche che siamo una squadra che ha tiri fatti contro occasioni concesse, il gol subiti è molto alto, paghiamo molto ogni situazione che ci capita, ma non una partita, più partite come in media siamo una delle più basse e perciò dobbiamo cercare di aiutare i ragazzi, i ragazzi ce la mettono tutta perché fanno tutto quello che diciamo, se qualcosa non funziona dobbiamo essere bravi noi, io e il mio staff a metterli in una situazione più agevole in alcuni momenti della gara e in alcune parti del campo.